Buongiorno a tutti, allora mancano meno di 10 giorni all'inizio del nostro prossimo ritiro di meditazione e arti energetiche a Urbino io sono super eccitato, sarà un ritiro molto breve di soli 3 giorni, dal 30 giugno al 3 luglio ma sarà super intenso, super approfondito nella pratica quindi se ti interessa regalarti un weekend di meditazione, di introspezione, di rigenerazione e soprattutto ti interessa sapere di più sull'energia ti invito a cliccare su questo link dove troverai tutte le informazioni necessarie e dove potrai accedere a uno dei tre posti disponibili per questo evento quindi intanto ti auguro una buona giornata e ci vediamo presto